Il giudice Thomas Griesa parla come un imperialista. Il piano per portare i tango bond sotto la legislazione argentina della presidente Cristina Fernandez è illegale. È ormai guerra aperta tra Buenos Aires e la corte new yorkese che ha dato ragione ai hedge fund statunitensi, gli avvoltoi per il governo argentino, ovvero quelli che hanno comprato a due soldi i bond dopo il default del 2001, salvo poi rifiutare la ristrutturazione e richiedere in tribunale il pagamento integrale. In base alla sentenza di Griesa, l'Argentina non può effettuare i pagamenti sulle obbligazioni ristrutturate senza prima pagare i ribelli. Il successivo stallo ha portato al nuovo default e all'ultima sortita legislativa di Buenos Aires.